Benvenuti e bentrovati, sono Birugi, questo sarà un video corto, molto veloce ed è semplicemente per andarvi a definire l'organizzazione del canale da qui all'eternità No, affinché non mi viene in mente un'idea più geniale di quanto non lo sia già questa Allora, prendiamo il mio taccuino dove ci sono tutte le idee E allora andiamo a vedere la suddivisione dei giorni alla settimana Lunedì e martedì non sarò presente su nessun social, cioè non mi vedrete su Youtube Il mercoledì sarà un giorno di pubblicazione, pubblicherò principalmente alternandosi video riguardanti libri e film Cercando appunto di alternare una settimana libri e una settimana film, una settimana libri e una settimana film Il giovedì sarò assente, non esisterò, il venerdì tornerò Venerdì sarà il giorno adibito ai doppiaggi Vorrei cercare di portare almeno una volta a settimana un doppiaggio Perché come sappiamo, come ripeto, fino alla noia, il canale è nato principalmente per i doppiaggi Quindi, quindi video abbastanza corti Cercate almeno di guardare quelli del venerdì, per favore Lo so che sono quelli che vi frega di meno, però vabbè Sabato non ci sarò, caput, perché è festa anche per me E domenica, invece di riposarmi come fece Dio Pubblicherò un video Il video della domenica sono i cosiddetti video frivoli Quelli un po' divertenti, un po' sciala sciala Probabilmente questo è uscito di domenica Proprio perché non volevo togliere agli altri giorni i loro video Lo so, lo so, quello che tu piccolo osservatore stai osservando Perché è doppiazione Capisco che tre video a settimana siano tanti E che io ho gli esami, ho tante cose da fare, l'università Probabilmente non sempre riuscirò a tenere questi tre giorni Però il mio obiettivo è quello di farcela Di riuscirci Importante, i video usciranno sempre tra le due e mezza e le tre del pomeriggio Questo perché c'è lo struscio pomeridiano dopo pranzo E l'abbiocchino, beh Volete mettere che abbiocchino è se non vi guardate prima un mio video Così vi potete proprio addormentare magnificamente Se sapete già di essere interessati solo e unicamente a una di queste categorie Sappiate che alle tre, alle due e mezza di quel giorno uscirà tale video Ovviamente a me fa più piacere se li guardate tutti Però vabbè, non posso pretendere questo e altro È già tanto che me ne guardate uno Niente, quindi basta Ho finito la mia predica Il video è finito Andate in pace e ci vediamo tre volte a settimana Sì, sarà impossibile Ok, io ci provo Però non c'è bisogno di arrabbiarsi così tanto mondo Non c'è bisogno di ormai